Durante il suo ultimo evento Sara Diamante Prende un ragazzo dal pubblico Lo fa saldini sul palco Lo limona E simula un atto sessuale Davanti a tutti Con questo ragazzo Sconosciuto Per quanto queste cose Siano ormai Non dico la normalità Ma sdoganate un po' da Grelmos Che nel suo show Faceva robe simili Ormai siamo arrivati a un livello Completamente assurdo Vi lascio infatti filmati In modo che possiate giudicare voi stessi Fatemi poi sapere con un commento Qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo un prossimo video In linea lo studio Noi ci vediamo un po' di